La Civica Enoteca Maceratese è stata la sede della prima edizione del concorso Abbina un piatto al vino, riservata ad alcuni tra i migliori chef della provincia di Macerata che si sono cimentati nella preparazione di piatti da abbinare al vino Monteferro un Colli Maceratesi Doc Ribona 2011, premiato come eccellenza nella guida alle marche nel bicchiere 2014 redatta dall'Associazione Italiana Sommelier. Il compito di giudicare il miglior abbinamento è stato affidato ad una giuria di esperti composta da Ugo Bellesi, storico della gastronomia e delegato dell'Accademia Italiana della Cucina da Cesare Lapadula, delegato dell'AIS della provincia di Macerata dallo chef professionista Roberto Ortolani da Benedetta Lucangeli dell'azienda Vinicola Villa Forano e da Lorenza Natali della Camera di Commercio di Macerata e proprio con Lorenza Natali andiamo a sentire le impressioni della giuria. Abbiamo pensato di coinvolgere i ristoratori della provincia di Macerata in un abbinamento con un prodotto tipico della nostra zona che è il Ribona e quindi abbiamo proposto questa gara che vede oggi sette concorrenti che verranno valutati da una giuria. Il Ribona è quello che rappresenta l'uva bacca bianca per una grossa fetta della provincia di Macerata ci si sta puntando tantissimo per far sì che si chiami Ribona l'85% minimo di uva deve essere maceratino. Valutiamo la presentazione e l'impressione generale l'abbinamento e quindi il piatto come strutturato e l'abbinamento con il Ribona che è strutturato come vino quindi va ricordato. Poi il gusto del piatto, la difficoltà di esecuzione e poi l'interpretazione quindi la creatività dei singoli chef e quindi ristoratori. Questa è una delle prime volte che facciamo questa iniziativa a Macerata per mettere in evidenza soprattutto i vini del territorio ma anche la qualità e l'abilità dei nostri chef. Un abbinamento impreziosito dalla presenza di un vino come il Ribona che va per la maggiore tanto da contendere il primato da altri vini che in passato erano più celebri ma che ora stanno tendendo ad affievolirsi e quindi il Ribona è un nostro vino di punta e quindi speriamo che abbia successo anche con questa iniziativa. Abbiamo qua altri sette colleghi e mi auguro che tutti quanti riescano a fare un bellissimo abbinamento con questo buon vino Maceratese di Ribona e venga il migliore, cosa dire? Speriamo veramente sette chef del nostro territorio sette splendidi prodotti e un vino fantastico. Per la cronaca a vincere il concorso è stata la ricetta dello chef Mirko Luca Marini proprietario del ristorante Il Casolare dei Segreti di Treia così intitolata Tortello farcito di pollo in potacchio accompagnato da hamburger di petto di pollo, mele e arancio.